Ah 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 ah! Sono Giovedo Atta e vi pongo alcuni inquisiti. Primo, che cos'è Colliwood? Eh, non lo sapete, non lo sapete. Due, che cos'è Melting Rock? Non lo sapete, non lo sapete. Tre, che cosa ci fanno dentro la nuvola di Fuxas? Non lo sapete. Eh, allora ve lo dico io, però non è che ve lo dico adesso, voi dovete venire proprio il 7 di dicembre alle 17 e 30 in una manifestazione che è bella su l'essa che si chiama Più Libri Più Liberi o anche Più Liberi e Più Libri e io ve lo dico, ok? Ci siamo pronti alla chiusura? Uno, due. Grazie a tutti.